Con la conferenza del professor Marco Andreatta, professore all'Università di Trento e presidente del Museo di Scienze Naturali Trentino, il Muse, che si intitola Ricerca e Divulgazione e l'esperienza di un matematico, diamo inizio al ciclo tradizionale dei mercoletti dell'Accademia che la nostra Accademia organizza ormai da molti anni. Anche quest'anno il programma è molto vario e vuole cercare di puntare l'interesse sui vari aspetti, sulle varie competenze degli accademici che fanno parte della nostra istituzione. Quindi alla conferenza del professor Marco Andreatta seguirà una conferenza del professor Pennacchietti sulla comparsa e la fortuna dell'articolo determinativo nelle lingue semitiche altrove, alterniamo le scienze matematiche, fisiche, naturali con scienze umane. Poi ci sarà una conferenza del professor Paolo Vineis sull'epigenetica e causa ambientale delle malattie. Il professor Tortarolo dell'Università del Piemonte Orientale parlerà di mondi più connessi la globalizzazione del XVIII secolo, il professor Predazzi, la fisica nell'ultimo secolo dall'infinitamente piccolo all'infinitamente grande o viceversa il ritorno. Avevo poi il piacere di avere uno sospite il professor Salvatore Veca dell'Istituto Universitario degli Studi Superiore di Pavia che è anche il segretario generale del premio Balzan, il famoso premio molto importante che è stato recentemente dato, tra l'altro anche un nostro socio lo ha vinto, il campo dell'archeologia. Poi il professor Cattel, pallottole magiche nella terapia antitumorale. Il professor Gian Savino Penevidari ha 150 anni dell'unificazione legislativa e amministrativa italiana. Il professor Pignatti dell'Università della Sapienza di Roma che è uno dei massimi esperti di flora montana che parlerà della vita delle piante in alta montagna in particolare a una lunga esperienza delle Dolomiti. E infine il professor Ruffinatto della nostra università che parlerà del secondo Chisciotte 1615, un romanzo in maschera. Quindi questo ciclo prosegue secondo il nostro schema tradizionale che è quello appunto di alternare un argomento di tipo scienze, matematica e fisica naturale e un argomento di tipo umanistico. Tutti i relatori sono nostri soci, sono nostri soci, quindi questo è anche modo di vedere la ricchezza culturale delle persone che fanno parte dell'Accademia. Tutti tra l'altro svolgono la loro opera in maniera completamente gratuita. e ringraziare il professor Andreatta e tutti i relatori successivi che verranno. E gli argomenti trattati sono argomenti che fanno riferimento o a pubblicazioni recenti o a iniziative recenti come il Museo o comunque a ricerche di tipo, diciamo che in questo momento vengono svolte e che sono all'avanguardia nel campo scientifico. Questi programmi vengono messi a punto dai due direttori delle classi della nostra Accademia per la classe di scienze umanistiche, il professor Gianotti e per la classe di scienze umanistiche il programma era stato messo a punto dal compianto professor Aldo Fasolo che molto aveva lavorato per questo programma. Tra l'altro il professor Andreatta lo ha incontrato a Trento proprio il giorno prima che è della sua improvvisa scomparsa e allora vorrei a nome di tutta l'Accademia dedicare questo ciclo alla memoria di Aldo Fasolo ringraziandolo ancora una volta per quello che lui ha fatto tanto ha fatto per l'Accademia e che purtroppo non potrà più fare. Do adesso la parola al professor Franco Pastrone che è l'attuale direttore della classe di scienze fisiche e matematiche naturali che vi presenterà il relatore di questa sera. Signore e signori grazie per essere intervenuti. Siamo particolarmente orgogliosi di avere il professor Andreatta socio di questa Accademia da poco meno di un anno personalità di grande rilievo nel mondo della matematica ma non solo della ricerca, come dirò. È professore ordinario di geometria all'Università di Trento e direttore del museo di cui parlerà, di scienze di Trento e direttore del Centro Internazionale di Ricerca e Matematica il CIRM, ben noto, nella sezione di Trento. Ha fatto, inutile che mi dilunghi, sui suoi trascorsi nel senso è stato viso in professor in un notevole numero di istituzioni straniere tra le quali, ricordiamo, a Berkeley, al Max Planck Institute di Bonn al Newton Institute di Cambridge, quindi tutti i posti di assoluta rilevanza mondiale. Svolge molte attività amministrative, organizzative, ho detto il CIRM presidente del Museo di Scienze direttore dell'Unità di Ricerca dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica che è ospitata presso il suo dipartimento e poi responsabile di progetti PRIN da molto tempo. Questo museo, che dico due parole, poi lui ce lo descriverà ampiamente, ma solo come introduzione, è nato da un anno, poco più, poco più di un anno, però ha avuto subito un successo immediato. Immediato perché è un processo piuttosto ambizioso dal punto di vista culturale. Dal punto di vista architettonico, dicono, molto avanzato, molto, molto nuovo, come ricerca e divulgazione scientifica è un successo italiano, tutto italiano, alla cui realizzazione ha concorso diversi fattori. Una serie attività di ricerca, una fantasiosa ed efficace pratica divulgativa, un'operosa e attenta disciplina organizzativa. La conferenza si propone, vedremo, di raccontare alcuni aspetti di questa realizzazione e seguirà qualche considerazione sul rapporto tra ricerca e divulgazione, un argomento cui sono molto sensibile e quindi attendiamo con piacere di sentire cosa ci racconterà il professor Andrea Atta. Grazie ancora. Buon pomeriggio, grazie a tutti di essere venuto, grazie anche di queste belle parole di introduzione, che non so se merito, speriamo. Dunque per me veramente è un grande onore e sono molto orgoglioso di essere qui a parlare in questa sala, di essere socio di questa prestigiosa accademia da meno di un anno e spero, diciamo, di poter contribuire. Poi per me è sempre un gran motivo culturale di venire a Torino. Sono già stato a Torino di fare diverse conferenze al Politecnico e anche alla Statale, conferenze sulla mia disciplina, e sulle volte che vengo a Torino, prima, insomma, io quando ero piccolo sono stato in terza media un vorace lettore di Salgari, poi sono diventato un vorace lettore di Pavese, poi un po' più tardi un vorace lettore di Gramsci, e poi quando ho scoperto che erano tutti qui a Torino dico mamma mia, devo trasferirmi a Torino. E questa è una buona occasione, insomma. Cioè per me Torino è davvero una città che rappresenta veramente moltissimo per la mia cultura, per la mia formazione. Più recentemente poi ho avuto da fare con molti colleghi, con il professore Alberto Conte, che è sicuramente una persona importante per la ricerca in geometria gebrica di cui mi occupo io. Ho poi avuto anche il piacere di dialogare molto con Enrico Predazzi, quando ero preside, io ero anche preside di scienze, sui programmi della divulgazione. E con Aldo Fasolo, come è stato ricordato, che ho avuto il piacere di conoscere solo recentemente, e con il quale ho passato una serata piacevolissima al Muse, diciamo, proprio nell'occasione della sua ultima visita a Trento. Bene, allora io, diciamo, volevo raccontarvi un pochino questa... Probabilmente intanto andrò oltre un po' con l'enfasi, perché sono davvero molto entusiasta di questo museo e mi ci sta appassionando moltissimo. Io sono un presidente di questo museo, presidente del Consiglio di Amministrazione, sono stato nominato dalla provincia e c'è un direttore validissimo che è il Vulcano, Michele Lanziger, diciamo, che io sovraintendo come presidente. Ed è, come è stato detto prima, a mio avviso è stato inaugurato un anno e mezzo fa ed è veramente un'opera ben riuscita, un successo, lo chiamo anch'io, del Made in Italy. È stato inaugurato a Trento nel luglio 2013. Leggevo ieri la dicitura del British Museum che dice «Aperto a all studios and curious persons», aperto a tutti gli studiosi e i curiosi, che sono stati tanti in questo anno e mezzo. È un magnifico edificio architettonico insieme ad un'esposizione unica, un mix proprio tra design e contenuto che hanno creato un prodotto, mi piace dirlo, un Made in Italy, con un respiro però internazionale che sta... Perché, vedete, Trento è una piccola... Allora, vorrevo raccontarvi del museo, ma vorrei, spero, diciamo, di invitarvi a visitare la mia regione, il Trentino, e anche questo museo, quindi di darvi un po' un quadro di dove stiamo andando, di dove siamo. Siamo una piccola provincia di confine, un confine naturale e anche linguistico, con il mondo tedesco e quello italiano, e quindi, diciamo, iniziando, vorrei farvi vedere una raffigurazione di come la vedeva il Dürer, Dürer, che era, diciamo, questo pittore tedesco che è venuto in Italia a conoscere, a rubare i segreti della prospettiva, del disegno geometrico. Albrecht Dürer ha scritto il primo libro di scienza in tedesco, proprio come Leon Battista Alberti ha scritto il primo, un trattato della pittura, prima l'ha scritto in latino, poi l'ha scritto in italiano, Dürer si dice il primo libro in lingua tedesca di scientifico e si fermò parecchio a Trento, venne in Italia due volte e, ecco, quindi questo è il primo mio, diciamo così, sentimento matematico. Io ritengo il Dürer quello che ha portato il disegno prospettico, le regole della prospettiva, ha scritto dei libri, appunto, in tedesco, che sono dei libri di geometria e poi piace molto questo perché questo è la vista che si ha dal Muse, dal Muse si vede questo e quindi io mi immagino che Dürer si è fermato e il Muse è da questa parte del fiume Adige e vede una chiesa romana e mi immagino che Dürer si è fermato lì dove adesso sorge il museo e quindi aveva già previsto che lì sarebbe stato il museo di scienze. Quindi, diciamo, è proprio un... il Dürer lo prendo come testimone dello scambio artistico e scientifico tra Italia e Germania attraverso Trento e lui era interessato a capire e divulgare le nuove tecniche pittorico-matematiche della prospettiva. Trento ha avuto, come sapete, il massimo splendore durante il Concilio di Trento, anche questo momento, diciamo, di dialogo, non proprio di dialogo ma di rottura tra il mondo cattolico e il mondo protestante. quindi in questo caso ha rappresentato una rottura tra cristianesimo cattolico e portoestante. Mi piace dire che è un capoluogo di una provincia molto piccola, 500.000 abitanti, che ha un interessantissimo accordo internazionale e l'autonomia della provincia di Trento è salcita da un accordo internazionale de Gasperi Grubert e quindi, diciamo, è anche abbastanza avanzato dal punto di vista gestionale. Ma è proprio questo, diciamo, ecco, qui è l'antico palazzo vescovile delle albere, tra un po' lo vedremo vicino al museo, che era il palazzo estivo del principe vescovo durante il Concilio di Trento. Va bene, il progetto nasce dalla volontà di riqualificare una periferia urbana, questa è un tempo occupata da una fabbrica di smessa, si vede, la fabbrica Michelin, affacciata sul fiume e vedete questa, diciamo, questa fabbrica era proprio completamente slegata dalla città e allora la provincia una decina di anni fa diede in carico a una società, anche questo è un progetto interessante, si è creata una società di gestione del risparmio, cioè la provincia ha rilevato il terreno e poi l'ha ceduto a questa società privata che affida a Renzo Piano il progetto per realizzare un quartiere, perché lì non c'è solo il museo, c'è un quartiere abitativo con un museo delle scienze e un centro congressi. Ecco, comincio a farvi vedere, questo è la realizzazione e diciamo, quindi questa fabbrica è stata dismessa, è stata bonificata, la fabbrica si era chiusa vent'anni fa e adesso è nato diciamo questo quartiere, qui forse si vede un pochino meglio, ecco vedete diciamo l'antico palazzo delle albere che è qui, ecco questo è l'antico palazzo delle albere e qui è sorto questo grande quartiere con l'inciso culturale del museo che è questo, questo è un quartiere abitativo, qui ci doveva essere un polo di congressi, un centro congressi, invece adesso si è cambiata lì si è cambiata un po' l'idea e diventerà biblioteca dell'università di Trento. Bene, la provincia autonoma della quale il museo è un ente funzionale è da una, da 50, da 40 anni che adotta una politica molto illuminata nei confronti della ricerca investendo su ricerca e innovazione, questo diciamo è un omaggio che dobbiamo dare diciamo nel nostro caso. Come voi sapete l'Italia si dice che investe l'1,2% del PIL sulla ricerca il Trentino investe l'1,9 quindi molto di più beh diciamo la Germania è 2,8 la Finlandia 3,8 insomma questi dati che sappiamo ma il Trentino investe molto di più del resto dell'Italia 1,9 questi sono dati Istat il Piemonte è uguale ho scoperto quindi diciamo Trentino e Piemonte sono quelli che investono di più e poi la differenza tra Piemonte e Trentino sta nel fatto che ho visto che il contributo delle imprese è circa dello 0,70 sulla spesa totale italiana mentre nel Piemonte il contributo delle imprese è 1,4 mentre le imprese e trentine investono molto poco diciamo noi abbiamo l'investimento della provincia bene mi piace dire subito per entrare in questo territorio che la provincia finanzia non solo ha finanziato non solo il MUSE finanzia da un anno interamente l'università di Trento a Trento c'è un'ottima università e due fondazioni di ricerca una fondazione Bruno Kessler una fondazione Edmund Bach mi piace dire della fondazione Bruno Kessler perché il nuovo presidente della fondazione Bruno Kessler è Francesco Profumo che conoscete un torinese diciamo che dal primo di gennaio è diventato quindi i rapporti tra Trento e Torino si intensificano sempre di più poi abbiamo un museo di scienze nuovo bellissimo di cui vi racconto e poi un museo anche d'arte il MARTA Rovereto molto bello sempre finanziato insomma grazie a questo sforzo finanziario una città di montagna e di periferia pur diciamo di frontiera con radici rinascimentali è un ex principato vescovile come ho detto oggi si qualifica mi piacerebbe provare a dirlo come una città di cultura una città con un'università con dei musei con le fondazioni e un bellissimo festival della montagna eccetera bene questa presentazione di questa città di frontiera di confine che investe sulla cultura in 40 anni che ha creato questo passa a un certo punto per questo signore Renzo Piano un architetto di fama internazionale quindi prima di parlarvi un po' del museo comincio a parlarvi del museo parlando della parte architettonica che è uno dei grossi punti del museo è un architetto di fama internazionale senatore a vita che dedica particolarmente attenzione al riassetto delle periferie urbane e alla progettazione di splendidi musei di scienza lui ha progettato il museo di scienza di San Francisco di Amsterdam quindi è proprio un esperto mi piace se mi permettete di leggervi due piccole parti delle interviste che ha fatto lo scorso anno una peraltro è uscita anche come tema di maturità quest'anno di italiano e Renzo Piano dice sono proprio le periferie le città del futuro quelle dove ci concentra l'energia umana qui è Piano che parla e che lasceremo in eredità i nostri figli c'è bisogno di una gigantesca opera di rammendo ci vogliono degli idee i centri storici ce li hanno consegnati i nostri antenati la nostra generazione ha fatto un po' di disastri ma i giovani sono quelli che devono salvare le periferie spesso la parola periferia si associa al termine degrado mi chiedo questo vogliamo lasciare in eredità dobbiamo recuperare le periferie sono la grande scommessa urbana dei prossimi decenni diventeranno o no pezzi di città eccetera eccetera poi proprio un paio di mesi fa ha rilasciato un'intervista molto carina a Paul Clemens intitolato Renzo Piano explains how to design the perfect museum e allora diciamo vediamo quali sono le sue idee e devo dire che e lui dice così diciamo ho preso i puntini ma parto da qui questo deriva dal fatto che io sono italiano dice Renzo Piano la città come italiano è sotto la tua pelle un italiano cresce con l'idea che le città siano luoghi dove gli edifici parlano tra loro c'è un dialogo tra l'edificio e la strada è una questione di accessibilità assessibili ti dice di vita civica è bello una grande persona una persona urbana sa come comportarsi con civiltà come condividere come essere accessibile un edificio deve essere accessibile deve parlare alla città parlare alla gente edifici come questi permettono alla gente di scambiare tra loro esperienze e condividere e godere la vita parlare uno con l'altro è una forma di eccitazione è l'inizio della tolleranza che in fondo è il segreto della vita civica questo secondo me proprio diciamo si vede che c'è questa voglia di un'urbanistica che dialogo nella città che si esprime bene nel muse tutti gli edifici menzionati lui dice volano sono ancorati a delle radici ma si innalzano sopra il terreno lasciando penetrare la luce da sotto e all'interno permettendo l'amalgamarsi del rituale della vita della città con quello della vita degli edifici innalzando gli edifici il piano terra diventa quasi una continuazione dell'ambiente pubblico vi faccio vedere le immagini e vediamo se ci riconosciamo in quello che dice e questo è il muse che diciamo si innalza come un profilo di dolomiti vedete richiama diciamo il profilo delle montagne e si innalza come dice lui è ancorato con delle radici eccolo qui diciamo durante una nevicata eccolo sempre qui durante la notte diciamo e questa invece è una foto che ho fatto io e vedete come si ho fatto una panoramica col cellulare e quindi potete vedere il palazzo delle albere e il museo l'antico palazzo Vescovile e la novità per Trento e qui invece è il quartiere delle albere il quartiere residenziale che è attaccato e qui c'è proprio secondo me quello che ho letto prima non so se riconoscete diciamo tutti gli edifici menzionati volano sono ancorati delle radici ma si innalzano sopra il terreno lasciando penetrare la luce da sotto eccetera c'è questa visione urbanistica architettonica di piano vedete il museo questa è la parte di uffici del museo questa è la parte espositiva come si collega alla parte abitativa e qui invece vediamo come si collega al palazzo delle albere questa è la serra tropicale che andremo a discrivere tra un pochino vediamo un po' ancora cosa ecco diciamo quindi vediamo di rivederli assieme ecco questo è il museo come si presenta la notte questo è il quartiere che si che dialoga con la città con il museo e questo e questo è il la serra e quindi è un edificio architettonicamente molto 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 bello e che ospita ecco ritorno un attimo per dire qualcosa bisogna dire anche c'è un piccolo difetto queste sono della zona abitativa che purtroppo non sta funzionando non riesce non si riesce a vendere neanche un appartamento però questo non è un problema del museo perché costano parecchio e diciamo questa questa società non è un momento di crisi per cui per cui diciamo se la visita al museo è molto bella e trovate sempre moltissimi visitatori un pienone incredibile se poi vi aggirate per il quartiere purtroppo il quartiere è semideserto e speriamo anche se cominciano ad esserci dei negozi bene benissimo questo è diciamo la giornata inaugurale quindi vi ho descritto un po' diciamo quello che Piano voleva aveva nella testa quando ha cominciato a creare questa cosa è la prima volta che Piano non solo realizza l'edificio ma si cura anche l'allestimenti come vi ho detto appunto la creazione del museo di scienze è iniziata si è stata cominciata a progettarsi 10-12 anni fa e devo dire che durante le fasi iniziali ho avuto anche la fortuna di essere preside della facoltà di scienze di Trento e in quel periodo come penso anche molti studiosi qui di voi ho avuto modo di collaborare appunto come scienziato con il museo di scienze che c'era prima il museo di scienze trentino è stato fondato nell'ottocento verso la seconda metà dell'ottocento quindi c'era già un museo di scienze che collaborava moltissimo con la facoltà di scienze e in particolare diciamo avevamo una fortissima collaborazione col dipartimento di fisica e hanno fatto al museo di scienze di trentino sono state delle mostre bellissime sulla fisica nel gioco e i giocattoli di einstein delle mostre temporanee che hanno dato origine un po' all'idea di allargarsi e fare un museo più grande e in particolare una bellissima mostra col dipartimento di matematica intitolato mate trentino che era prima nata come mostra su mate milano la matematica nella città di milano con tutta diciamo la descrizione matematica dell'architettura dei percorsi eccetera e che poi è stata fatta anche a Trento e abbiamo organizzato questa mostra a mate trentina con un bellissimo catalogo che ha avuto un grande successo è stato anche premiato come la miglior pubblicazione scientifica nel 2005 5-6 mi pare dal premio Pirelli e ecco questa interazione tra museo e facoltà ha stimolato moltissimo l'interesse dei miei colleghi della facoltà di scienza e abbiamo creato proprio anche una convenzione quadro tra facoltà di scienza e museo e in particolare in quegli anni quando ero professore ero preside ho anche attivato un corso di comunicazione della scienza e devo dire che qui anche i contatti con Enrico Predazzi sono stati molto importanti allora Enrico Predazzi era presidente dei presidi di scienze e lui mi raccontava dei suoi esperimenti qui delle sue attività con Agorà e con a Torino e quindi diciamo anche seguendo un po' le sue esperienze abbiamo creato questo corso di comunicazione in collaborazione col museo questa è una cosa importante perché ad oggi tantissimi ragazzi che sono impegnati come pilot come diciamo mediatori culturali al museo perché con questa esplosione di visitatori abbiamo bisogno di tantissimo personale sono persone che abbiamo formato in questi anni nella facoltà di scienze un'altra delle cose importanti che diciamo è stato creato durante il periodo che ero preside è stato un centro di biotecnologie perché la scienza della vita all'Università di Trento non c'era non c'era né biologia né biotecnologia non c'è medicina e lì abbiamo fatto partire e questa è anche una cosa di cui vado parecchio fiero diciamo un centro anche lì ho collaborato con alcuni colleghi dell'Università di Torino attraverso Enrico Predazzi per attivare questo centro questo corso di laurea miotecnologie che è stato anche una cosa molto importante per la realizzazione poi del museo parecchi biologi o scienziati della vita collaborano attivamente col museo bene io poi sono diventato presidente del museo tre anni fa in un momento particolarmente delicato quando diciamo il museo è cominciato a essere si costruiva si cominciava a finire la parte architettonica bisognava cominciare ad arredarlo è stata un'esperienza un pochino strana come diciamo scienziato prestato all'amministrazione e alla gestione di questo grande progetto come potete immaginare appalti non appalti anche di questo vado non dico io ma anch'io un pochino parecchio fiero ma credo che anche la nostra provincia diciamo tutto ciò che è stato fatto è stato fatto all'interno dei preventivi e senza sforare nei tempi eccetera quindi l'analizzazione è stata secondo me una cosa molto molto ben fatta anche dal punto di vista delle gare e dell'amministrazione è stato un lavoro progettuale intensissimo come ho detto prima è la prima volta che Renzo Piano partecipa anche agli allestimenti cioè non ha solo fatto il progetto ma anche proprio ha curato i vari exhibit è stato un anno due anni e mezzo fa ha cominciato un grosso dialogo tra gli operatori del museo di scienze i ricercatori e i mediatori culturali gli architetti della Renzo Piano italiana che significa una decina di architetti diciamo che a turno passavano per Trento e poi avevamo un consulente molto importante che era il Natural History Museum di Londra che ha dato il suo contributo diciamo come consulente esterno quindi è stato il lavoro di tre soggetti il museo di Trento gli architetti e il Natural History Museum di Londra ha visto la partecipazione di decine di esperti nazionali e internazionali advisory board costituiti da personale accademico esperti in comunicazione ed educazione cioè non è una cosa nata per caso è una cosa che ha impiegato parecchi anni contenuti e visioni sono stati discussi con il mondo allargato della ricerca a partire dall'università dalle fondazioni di ricerche locali fin verso le molte istituzioni di ricerca e musei scientifici italiani ed europei con i quali il museo ha rapporto infine è stato attivato un coinvolgimento diretto di cittadini attraverso numerosi focus group e azioni partecipate questa è stata una cosa anche secondo me molto molto importante cioè abbiamo spesso creato delle occasioni di incontro con la cittadinanza abbiamo provato a capire che cosa si aspettava Trento e la cittadinanza da questo museo numerose personalità lo hanno visitato hanno interagito con il museo e sono venuti i ministri Giannini Zanonà Prodi scienziati Boncinelli l'altro ieri è venuta Fabiola Gianotti a vedere il museo e ha dato il suo contributo di idee poi ne parleremo è venuto il nostro presidente Alberto Conte all'inaugurazione questa è la foto che venite e c'era anche Aldo Fasolo all'inaugurazione eccetera insomma e critici d'arte come Sgarbi sono venuti hanno detto che è bellissimo ma che loro farebbero in maniera un po' diversa e una delle persone che più si è innamorata del museo è l'arrampicatore Messner con il quale ho girato nel museo ed era ammirato della sua bellezza adesso vedremo qualcosa e l'unica cosa che dava fastidio a Messner era l'enorme numero di visitatori diceva qui c'è troppo rumore e dico sì non siamo su un 8000 ricostruisce le 8000 però insomma questo processo di formazione si è accompagnato citerei a dirlo con una crescita a mio avviso professionale delle professionalità interne nei campi sia della curatella scientifica della ricerca della comunicazione è cresciuto anche tutto il personale del museo per me è stata un'esperienza veramente importante cioè si è creato un nuovo museo e da un piccolo museo di periferia è diventato un museo mi sembra internazionale europeo ed è cresciuto anche tutto il gruppo in un'esperienza particolare diciamo entusiasmante molto 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 bello sono circa 120 persone che lavorano a questo museo dall'ufficio stampa ai ricercatori ed è stato e diciamo a me pare che ci sia abbiano in mano una macchina che riescono a dirigere e a gestire con grande competenza e con grande professionalità bene questa è la foto una foto della notte dell'inaugurazione sono state 24 ore continuate di visita di festa con oltre 30.000 persone un successo inaspettato questa è durante la notte mi sembra perché è stata aperta 24 ore bene andiamo cominciamo a visitarlo questo museo con qualche diapositiva natura scienza e innovazione è il trinomio su cui si basa il racconto sviluppato al musee natura scienza e innovazione perché essenzialmente un museo di scienze naturali però parla molto di scienza e parla molto di innovazione si rappresenta e interpreta le realtà che ci circonda la natura alpina e le dolomiti con gli occhi gli strumenti e le domande della ricerca scientifica particolare intenzione dedicata al ricco patrimonio naturalistico del trentino delle dolomiti che voi sapete è patrimonio dell'unesco alla fauna e alla flora che lo popolano le tecniche e i risultati della ricerca scientifica naturalistica ambientale vengono descritti direttamente dai ricercatori poi vedremo impegnati in prima persona in questa affascinante fondamentale attività quindi il rapporto la vista al museo spesso si accompagna con la guida di un ricercatore che racconta quello che sta facendo o che interpreta gli exhibit che andate a vedere e quindi diciamo attraverso exhibit interattivi ma anche visitando direttamente i laboratori di ricerca e questa è una cosa che diciamo sta ottenendo un enorme successo il visitatore non si sente abbandonato si sente vede i prodotti della ricerca vede la natura ma anche può dialogare con i ricercatori questa è una cosa particolarmente importante l'esperienza diretta e dal vivo è sempre più incisiva che un'esperienza virtuale un linguaggio chiaro e immediato assieme ad apparati espositivi e scenografici innovativi rendono la visita al museo un gradevolissimo e divertente viaggio di scoperta la visita del muse stimola continuamente interrogativi sulla visione di futuro che la società nel suo complesso sta elaborando su temi dell'ambiente del suo utilizzo da parte dell'uomo e della sua preservazione quindi attraverso descrizioni sia qualitative ma anche quantitative cioè molti numeri ma proposti in maniera leggera e accattivante e poi spesso si confrontano ecosistemi tra loro diversi benissimo allora questa è l'entrata avvicinandoci si nota subito una perfetta integrazione tra la forma architettonica e la funzione espositiva con grandi falde inclinate come ho fatto vedere che generano un rimando immediato alla verticalità alpina cioè il muse ricostruisce e questa per me è la foto più bella quella che mi appassiona di più diciamo andare al muse è un pochino come andare in montagna qui vedete lo vedete questo è uno dei miei miti diciamo è Manolo questo free climber che un giorno non so se lo conoscete l'avete mai sentito parlare è uno dei primi diciamo a più o meno la mia età quindi diciamo a più di 50 anni è una delle prime persone che si è occupato di arrampicata libera e quando è venuto al muse ha fatto diciamo alcune arrampicate su questo bellissimo edificio lo vedremo altre tre volte mi è piaciuto diciamo riportarlo questo vedete che è assicurato comunque ma sta non so se si vede e quindi sta arrampicando comunque è questo il desiderio dell'architetto quello di ricostruire una dolomite e quindi dare al visitatore l'impressione di fare una scalata vera e propria qui è una sezione del museo che vedete adesso andremo a entrare questo è l'ingresso qui c'è la montagna più alta diciamo che ha un grande vuoto interno dove sono esposti tutti gli animali e poi qui ai lati ci sono tutte le sale espositive e poi la visita finisce con la visita alla serra tropicale invece questa è la parte degli uffici scusate adesso vi faccio vedere noi entriamo da questo ingresso se siamo come Manolo ci entriamo col free climbing questa è la sezione e entrati dall'ingresso si arriva nel grande vuoto questo che vi faccio vedere prima vuoto ecco questo è se ricordate quello che vi ho raccontato di piano che dice che l'edificio deve innalzarsi la luce deve venire da sotto qui viene anche da sopra e quindi diciamo questo è non so se dà l'idea ma è la parte centrale del museo con questo vuoto che poi è stato popolato da animali e diciamo quindi Renzo Piano ha appeso tutti gli animali della delle Alpi a seconda della loro altezza qui ne vediamo un'altra foto è abbastanza difficile far capire una bellezza come questa insomma quindi ritorno indietro questo è il grande vuoto vuoto che è stato lentamente popolato da animali qui lo vedete da un'altra angolazione questa è la stessa foto più o meno qui ne vedete un'altra ecco quindi diciamo abbiamo un vastissimo spazio espositivo di circa 19.000 metri quadrati quindi è molto grande contiene oltre mille installazioni e si apre su ambienti arricchiti di effetti speciali che ispirano nel visitatore la stessa emozione degli scalatori impagnati sulle pareti dolomitiche avete visto manolo o degli sciatori lanciati nelle spericolate discese lungo canaloni nevosi ecco qui vediamo di nuovo il nostro orimpicatore in visita che si cala e qui è il piano più alto dove viene ricostruito un ghiacciaio e qui vedete un animale diciamo un antilope uno stambecco cos'è? non sono preparato sono un matematico cos'è? non lo vedo neanche bene da qui non stambecco no non stambecco ho visto mille volte e qui diciamo i visitatori entrano e passano da questo da questo ghiacciaio vedete qui ci sono gli uccelli che volano e sospesi e poi all'interno si entra in un tunnel che è difficile immaginare con una diapositiva questo è un tunnel multimediale dove si assiste a 24 ore sulle montagne a un certo punto avviene anche una slavina si viene diciamo travolti da una slavina sono effetti multimediali molto belli quindi diciamo si sale si passa il ghiacciaio si entra nel tunnel si passa la notte ci si sveglia la mattina in brevissimo tempo e poi si viene travolti da una slavina quindi appunto la visita inizia a questo piano alto con un passaggio quasi un ponte tibetano che da un lato si affaccia sul grande vuoto nel quale sono sospesi di animali che popolano le Alpi e dall'altro si appoggia su un ghiacciaio vero con un tunnel multimediale nel quale si prova la terribile esperienza di essere travolti da una valanga bene scendendo a valle ci si affaccia costantemente sul grande vuoto popolato da splendidi animali tassidermizzati in posizioni naturali e plastiche posizionati a secondo dell'altezza del loro abita naturale al quarto piano si entra in un laboratorio in un labirinto ambientale questo è il labirinto dove si possono ammirare da vicino e diciamo con prudenza anche a toccare perché non bisognerebbe rovinarli gli animali più splendidi che popolano le Alpi dall'orso al lupo dal cervo al camoscio che abbiamo visto prima dall'ince alla marmotta dall'aquila alla civetta eccetera eccetera quindi diciamo si parte dal ghiacciaio si passa si vedono gli animali nel loro ricostruiti in questo labirinto naturale e i più piccini poi c'è tutto un aspetto anche per i bambini qui si esce diciamo possono addirittura fermarsi negli angoli per il racconto dove ci sono degli animatori che raccontano le storie degli animali e la storia naturale prende mille forme e in questo caso quello di piccoli animali di peluche per cui poi i bambini si fermano molto anche lì questa mattina venendo in treno ho letto un pezzo del discorso agli stati dell'unione di Obama che voi sapete sempre tutti gli anni Obama insiste sulla preparazione scientifica sulla formazione sull'insegnanti e sul fatto che diciamo se vogliamo avere una nazione competitiva dobbiamo avere diciamo delle persone preparate sulle le scienze sulla matematica sulla fisica sulle biotecnologie e mi ha fatto abbastanza impressione perché dedica parecchie righe anche alla formazione dei bambini dell'infanzia cioè se dobbiamo portare a innamorarsi della scienza anche i bambini c'è scritto lo dice al senato l'ha detto stanotte insomma e mi ha fatto piacere direi guarda al muse siamo anche in linea su questo dove dobbiamo diciamo l'attenzione ai bambini è molto 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 alta con parecchi spazi poi ne vedremo altri bene si possono poi ammirare ad ogni piano parecchi acquari che immaginiamo come due torrenti che anche architettonicamente il ghiacciaio che avete visto prima si scioglie e dà origine a questi acquari con tutti i pesci localizzati a seconda dell'altezza del loro habitat e a un certo punto si scende e si arriva anche a un acquario in realtà tropicale dove si ricostruisce come erano le dolomiti una volta le dolomiti erano erano diciamo degli atolli corallini e quindi diciamo si comincia a capire anche la modificazione dell'ambiente come è venuto nel tempo e come lo stiamo modificando noi sono veramente molto molto belli tutti gli acquari e poi ovviamente ci sono anche degli spazi di nuovo per i bambini dove i bambini entrano nell'acquario giocano possono toccare spostare i pesci diciamo fare fare delle cose quindi è veramente non so se riesco a darvi un po' un'idea ci sono tanti exibi ci sono gli animali gli animali tessi dermizzati ci sono i luoghi per i bambini ci sono una serie di attività multimediali anche per adulti dove si può diciamo imparare attraverso questi strumenti tablet e così esatto in questo ambiente appunto di acquari si ricostruisce un ambiente con rocce coralline e pesci tropicali ovvero l'ambiente dell'odolomiti molti milioni di anni fa al terzo piano è possibile toccare con mano fossili e minerali osservare reperti naturalistici al microscopio a partire da numerose impronti diretti presenti sulle Alpi il museo ospita la più ricca esposizione di dinosauri della regione alpina e qui ne vedete alcuni e poi più in là diciamo qui siamo al piano terra e qui rivedete la verticalità del grande vuoto che vi ho descritto prima diciamo con tutti questi animali che scendendo continuamente si può fermarsi agli animali e fra gli sezionali reperti spiccano i manufatti dell'uomo di Neandertal le prime pietre dipinte e le armi in selce scheggiate dei cacciatori prestorici dell'età glaciale bene qui passo a questo scusate perché dopo ritorno c'è un piano intero dedicato alla sostenibilità ambientale e allo sviluppo il legame tra qualità ambientale e le modificazioni tecnologiche dell'ambiente provocate dall'azione dell'uomo sono un elemento centrale della trama narrativa del muse quindi diciamo la sostenibilità in questo senso mi richiamo all'introduzione iniziale il museo vuole interpretare lo spirito della terra che lo ospita che ricerca con consapevolezza e anche qui da voi penso che sia simile un modello di sviluppo dove qualità della vita e qualità dell'ambiente sono percepite come un tutt'uno quindi diciamo questo museo vuole essere anche un po' come un manifesto per la nostra provincia dove noi viviamo un ambiente talmente bello talmente ricco che utilizziamo in maniera molto forte e però dobbiamo capire quali sono gli impatti del nostro utilizzo e provare ad avere una politica più attenta alla sostenibilità ambientale per comprendere come scienza e tecnologia si è declinato in una prospettiva di sostenibilità contribuiscono a trovare buone soluzioni per il futuro del pianeta terra il museo offre al visitatore una grossa parte del secondo piano questa che vedete denominato piano della sostenibilità qui non ho fatto molte foto vi faccio solo vedere uno degli exhibit più di successo che è questo che potete immaginare come matematico come geometra io l'ho visto 4-5 anni fa a Berkeley per la prima volta e me ne sono subito innamorato questa è una sfera di si chiama SOS questo exhibit SOS Science on a Sphere è un mappabondo gigante animato un exhibit che con l'uso di computer e videoproiettori mostra su una sfera di circa 3 metri di diametro dati aggiornati in tempo reale e provenienti da tutti i satelliti della NOAA la NOAA è la National Oceanographic Agency americana l'equivalente della NASA per l'ambiente che controlla tutti i satelliti con i dati ambientali e in diretta in diretta li proietta su questa sfera quindi possiamo vedere su questa sfera che so io le previsioni del tempo possiamo vedere la situazione atmosferica in tutto il mondo possiamo vedere se in questo momento l'evoluzione delle ultime 24 ore dell'ultimo mese sull'Italia su Torino possiamo vedere come sarà l'evoluzione possiamo prevedere come sarà l'evoluzione futura possiamo vedere per esempio non so ci sono dei filmati che ci fanno vedere come l'esplosione di Fukushima abbia poi causato la dispersione della radioattività in tutto il mondo seguendo delle correnti e sono dati veri che vengono dai satelliti e sono dati veramente spettacolari e anche questo è una cosa che piace moltissimo alle persone una delle persone che è rimasta più affascinata non riuscivo più a farlo andare via da qui è stato Romano Prodi che voi sapete che adesso si occupa molto anche dell'Africa e così e diciamo vedere questa questa situazione ambientale globale è veramente molto importante anche per un economista insomma anche capire come si sta evolvendo i fatti naturali del mondo sono veramente molto spettacolari ecco qui racconto qualcosa di matematico per esempio adesso è stato sviluppato un software molto molto bello con questa con questa sfera da un matematico che si occupa di epidemie e si fa vedere come che so io una persona qui a Torino con l'influenza parte prende l'aereo va a New York porta l'influenza a New York e poi questo va in Giappone e quindi ci sono delle simulazioni su come si espande un'epidemia influenzale che sono veramente molto molto belle e molto 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 bello sto cercando di sviluppare insieme a dei colleghi di Berkeley un software per fare della geometria sferica che diciamo con una sfera così grande è molto bello insegnare anche la geometria non euclidea però siamo solo all'inizio il legame tra locale e globale il senso di appartenenza a uno specifico territorio quello alpino è collegato però in questo museo a un senso di cittadinanza planetaria in particolare è parte di uno schema ampio attento alle sottile e complesse relazioni che si instaurano in questo pianeta che ospita il nostro percorso evolutivo lo vediamo già con questa sfera che vi ho fatto vedere però a conclusione del percorso naturalistico alpino l'esperienza di visita culmina in una grande serra con piante che propongono gli ambienti di una foresta tropicale montana della Tanzania uno stimolo costante per riflettere su urgenza di guardare le questioni ambientali in una prospettiva planetaria quindi vedete qui diciamo si scende abbiamo visto il piano dell'evoluzione dei dinosauri e qui sono degli acquari che riproducono dei laghi tanzaniani e poi si entra in una ecco qui di nuovo Manolo che fa le rampicate sui monti Uzungua che sono dei monti in mezzo alla Tanzania nel quale su questi monti c'è una sede del museo di Trento una sede distaccata e grazie diciamo a questa nostra presenza in Tanzania portiamo le piante tropicali tanzaniane e abbiamo ricostruito un ambiente montano diverso da quello che abitiamo noi ma con il quale abbiamo collegamento mi piace sottolineare come in questo progetto sviluppato dal Muse con una sede di ricerca e fondazione si crei un ponte tra ricerca scientifica e cooperazione per lo sviluppo che è un tema quello della cooperazione fortemente sentito in Italia in particolare nella nostra provincia e penso che sia strategico per il nostro sviluppo è una cosa che a me appassiona molto il legame tra il museo di scienze di Trento e questa sede tanzaniana dove facciamo formazione anche per operatori ambientali e formazione anche per insegnanti tra il resto in maniera assolutamente casuale prima di diventare presidente e attraverso la collaborazione spinto da mia moglie ho passato sono stato due volte in Tanzania a fare formazione per insegnanti di matematica e fisica un'esperienza di volontariato e poi ho scoperto che è a 100 km dalla sede del museo per cui mi appassiona molto il fatto di quindi non so se sono riuscito un po' a spiegare diciamo a me una delle cose che piace molto è che abbiamo ricostruito questa sede questa serra tropicale tanzaniana in Trentino ma non è un caso è bene che il Trentino abbia collaborazione e si occupi di cooperazione e di sviluppo anche con paesi in via di sviluppo questa è una foto che ho fatto ieri però non so se rappresenta bene infatti volevo riprendere il discorso di Renzo Piano che il museo deve dialogare con la città non si vede forse bene ma quando si è nella serra si dialoga con gli edifici di fronte e viceversa gli abitanti del quartiere abitativo si affacciano tutte le mattine sulla serra tropicale ed è veramente uno spettacolo insomma c'è un dialogo tra la città e il museo il problema è che questi appartamenti non siano molto abitati è un altro problema speriamo che si risolva in fretta questo l'abbiamo visto dopo essere scesi all'ultimo piano si risale un po' e c'è un bellissimo piano che si chiamano hands on dove si può toccare al piano terra ospita esperimenti in forma di exhibit con cui interagire attivamente è una sorta di palestra della scienza dove andare da un lato alla scoperta dei principi della fisica alla comprensione delle regole della prospettiva o alla ricerca delle magnifiche simmetrie matematiche presenti in natura qui diciamo ci sono una serie di exhibit con cui si può giocare e si può capire la fisica si può capire la matematica gli anamorfismi di Leonardo da Vinci il rapporto aureo insomma questa è la parte science center del museo che ovviamente ha sempre un grande successo e lo vedete adesso in un momento in cui non c'è troppa gente per fortuna ma di solito diciamo ci sono decine e decine di persone che si cimentano dopo aver visto tutte queste bellezze naturali si cimentano con i giochi e con la scienza fatta con la scienza con le mani e qui mi dedico un attimo di tempo un'altra cosa che ospita il museo di scienze di Trento è un magnifico fab lab non so se sapete cos'è uno dei laboratori più innovativi di questi ultimi anni un laboratorio di personal digital fabrication questo è una laser è una stampante 3D scusate una stampante 3D c'è una dietro c'è una laser cutter e qui studenti scuole ma soprattutto ultimamente molti imprenditori artigiani vengono e creano dei prototipi creano quindi c'è una collaborazione tra il museo di scienze di Trento e l'attività produttiva artigianale della nostra provincia ma anche abbiamo un ingegnere e un architetto che lavorano a tempo pieno su questo museo e hanno preso commesse per i prossimi tre anni ovviamente a questo punto quando io ho visto che il museo mette una stampante 3D Alberto tu puoi immaginare non ho resistito e ho detto mi provo a stampare voi sapete che c'è una tradizione iniziata da Klein nell'Ottocento di costruire col gesso delle bellissime superfici algebriche e che è una tradizione che poi passando da Trento probabilmente sono andati hanno portato Castelnuovo anche a costruito queste superfici in gesso a Roma credo che anche Torino ne abbia con una strampante 3D le realizziamo facilmente questa è una tesi di laurea che ho dato a una mia studentessa usando il fatto che sono anche presidente del Muse questa diciamo era prima un po' grezza poi l'abbiamo lì ma questa è una superficie realizzata al Fab Lab del Muse di Trento e voi dite di grado 6 con 65 punti singolari questi sono i punti singolari che ha creato che ha costruito un matematico tedesco Barth di Erlanger mi pare poi un matematico francese Boville ha dimostrato che su una sestica non ci possono essere più di 65 singolarità le vedete tutte qui e un collega di Trento Roberto Pignatelli un paio d'anni fa ha fatto una nuova dimostrazione che questo è il massimo numero di singolarità per una superficie algebrica di grado 6 nello spazio sono stato noiosissimo chiedo scusa ma quando ho visto una cosa del genere dico wow una scoperta matematica recente posso visualizzarla posso costruirla qui la vedete in una diopositiva però io ce l'ho nel mio ufficio adesso l'ho costruita e poi abbiamo costruito anche una famosa superficie del Dini che è diciamo una specie di pseudosfera di Beltrami quindi una superficie che rappresenta una geometria non euclidea una geometria iperbolica spero di produrre presto uno zoo di superfici da affiancarla allo zoo di animali che ci sono lì non so quanti saranno interessati ma quei pochi matematici che passeranno saranno interessati in particolare alcuni matematici stanno producendo adesso sempre lì delle bellissimi lampadari oppure dei lampadari utilizzando i solidi platonici e penso di aver raccontato anche troppo di questo laboratorio che occupa un quarto di un piano del museo e che è gettonatissimo da altigiani e da da un lato e da scolari e come avete visto anche da miei studenti che stanno costruendo superfici i laboratori come vi ho detto sono visitabili abbiamo una serie di laboratori didattici che è stato un altro delle ragioni del successo gli studenti che vengono in visita ormai da tutto il nord Italia al museo la mattina vedono il museo o viceversa diciamo il pomeriggio passano fanno un'esperienza laboratoriale è un successo incredibile siamo prenotati anche per il prossimo anno e quindi diciamo proprio quindi c'è il museo ma anche toccare con le mani costruire una superficie algebrica oppure diciamo analizzare molecole o DNA in un laboratorio qui ve la faccio vedere perché diciamo questo è il ministro Giannini che è venuto anche lei mi ha fatto fare gli esperimenti questo è il nostro direttore Michele Lanzinger che è diciamo il deus ex machina qui vedete dietro la mia bellissima sfera questo è un altro un altro ricercatore del museo ecco questo che volevo insistere è diciamo una delle caratteristiche di questo museo è quello di avere delle parti espositive ma anche della ricerca cioè della gente che fa della ricerca e sono molto attivi nella ricerca soprattutto nei confronti del territorio perché abbiamo botanici geologi paleontologi limnologi zoologi gente che si occupa di biodiversità che vince un sacco di progetti europei siamo finanziati fortemente da progetti europei e lavoriamo su commissioni per la provincia che ci chiede di valutare l'impatto ambientale appunto sui ghiacciai sui laghi qui vedete diciamo di nuovo dei laboratori quindi c'è tutta una parte anche di laboratori che il pubblico a giorni alterni può visitare e volevo dire che oltre alle alle esposizioni permanenti abbiamo delle esposizioni temporanee in questo momento abbiamo una bellissima mostra oltre il limite ai confini della conoscenza in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare a questa mostra ha partecipato anche Fabiola Gianotti c'è un suo intervento c'è un suo exhibit lì è una mostra molto molto bella che è di fatto a mio avviso io sono un matematico è una mostra di geometria perché diciamo l'universo accelera qui oppure di aritmetica questo è un exhibit che hanno creato i mediatori culturali del museo non so se si capisce è un lego e la prima ruota qui sono delle ruote la prima ruota fa un giro al secondo l'ultima fa un giro nel tempo dell'età dell'universo quindi diciamo qui viene visualizzata perché con una serie di meccanismi questa gira ogni secondo questo ogni minuto questo ogni ora eccetera eccetera l'ultima completerà un giro nello stesso tempo equivalente all'esistenza del nostro universo quindi questa non si muoverà mai praticamente oltre a questa mostra in questo momento c'è una bellissima mostra intitolata Tempo di Lupi curata dal Muse sul progetto europeo Life Wolf Alps che è coordinata da Francesca Marucco dell'Università di Torino quindi in questo momento abbiamo una mostra sui lupi in collaborazione con voi in qualche modo una mostra molto bella e in particolare poi tutte queste mostre sono sempre accompagnate da una serie di incontri con scienziati astronauti ecco qui c'è un incontro la mostra degli NFN è stata accompagnata con una serata con l'astronauta Nespoli Paolo Nespoli e tra un mese avremo uno dei quattro conferenze in diretta con Samantha Cristoforetti ce ne farà quattro dallo spazio una a Vienna una a Parigi e una col Muse di Trento per cui insomma se avete voglia di passare quel giorno lì ci sarà la conferenza in diretta non so quante poste ci sarà qui abbiamo fatto una sera uno spettacolo di musica con due famosi jazzisti adesso non ricordo più il nome sempre legata alla mostra della dell'INFN se mi permettete di concludere con due osservazioni la prima volevo dare alcuni dati per apprezzare il museo oggi il museo ha avuto circa 550.000 avvisatori in un anno questo è un numero enorme si pensava le valutazioni iniziali pensavano 160-200.000 avvisatori questo era quello che avevamo detto al comitente politico che pensavamo di raggiungere abbiamo avuto 550.000 avvisatori che ci porta come numerosità essere tra i primi dieci musei del mondo musei d'Italia e siamo sulla stessa lunghezza del museo egizio di Torino che ha circa 700.000 avvisatori l'anno o anche di Venaria mi pare che l'Egizio sia il settimo e l'ottavo sia Venaria una cosa del genere insomma una cittadina piccola come Trento che riesce a competere avere più o meno lo stesso numero di visitatori del museo egizio è un grande onore e come ho detto il giornale dell'arte quest'anno fa una classifica di tutti i musei italiani manda dei referi dei giudici sapete come fanno per i ristoranti anonimi vengono lì mangiano e poi vengono lì e visitano il museo e siamo risultati primi insieme al Maxi di Roma con una serie di parametri molto 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 importanti e che evidenziano anche il cambiamento in atto nel panorama museale italiano e quindi mette in evidenza principi elementi di forza del museo una struttura ipospositiva all'avanguardia presenza di un pubblico di giovani l'eccellenza dei servizi la particolarità della presenza di figure pilot che ha disposizione del pubblico un buon bookshop spazio accessibilità eccetera tutti i parametri di questa di questa statistica sono indicativi di come sta cambiando l'atmosfera nel panorama museale italiano una delle cose molto importanti è il rapporto tra economia e turismo è una componente sempre più rilevante delle politiche culturali contemporanee recentemente il tema è entrato a pieno titolo nell'azione del governo da parte di Dario Franceschini il ministro dei beni culturali continua a dire che il governo vuole puntare su una rivitalizzazione dei musei e ha fatto queste nuove leggi lasciatemi dire che purtroppo come spesso succede con questo governo mancano i decreti attuativi per cui la legge è buona e noi siamo qui in attesa di poterla applicare ma non ci sono i decreti attuativi speriamo quanto prima il museo è all'avanguardia su questo abbiamo fatto come museo e mi permesso di fare una cosa un po' noiosa una statistica dunque vi dico subito che il museo costa alla provincia autonoma di Trento circa 6,5 milioni l'anno ci pagano 6,5 milioni di entrate proprie l'altro anno abbiamo avuto 4 milioni e mezzo quindi quasi il 40% di entrate proprie che è una cifra incredibile per un museo abbiamo fatto un'indagine sui visitatori e gli operatori economici sull'impatto che il museo ha avuto lo scorso anno per la provincia di Trento e sì abbiamo valutato una indagine ripresa da sole 24 ore abbiamo valutato che l'impatto del museo supera i 50 milioni di euro sul territorio e con un'entrata diretta di tasse di quasi 8 milioni di euro sulla provincia quindi la provincia ce ne dà 6,5 e come entrate di tasse ne tira 8 io capisco che non è una sede diciamo una sede così prestigiosa culturale fare questo conto dei soldi mi sembra un po' misero però insomma sono anche un presidente e allora io ai politici ho detto guardate che avete fatto una grande cosa però viene ripagata nel giro di pochi anni in questo momento questo bellissimo fatto culturale rappresenta un investimento secondo me che la provincia diciamo ritira concludo davvero se mi permettete un'ultima osservazione per il quando ho preparato questa cosa volevo parlare di matematica un pochino poi invece mi è venuto di parlare del museo e l'ho fatto vedere spero che vi abbia fatto voglia di spero che abbiate capito qual è stato questo grande entusiasmo che ha mosso la provincia di Trento gli operatori del museo di scienze di Trento Renzo Piano nel costruire questo bel edificio che sta funzionando bellissimo però volevo farvi vedere questa figura molto importante di matematica donna si tratta di Maria Mirzacani professore di matematica alla Stanford University 37 anni di origine iraniana medaglia filz 2014 che ho visto che Alberto Conte ha presentato in una riunione tempo fa qui è la prima donna è la prima iraniana la prima donna che riceve la medaglia filz in matematica la medaglia filz è l'equivalente del Nobel per la matematica e lei ha vinto quest'anno l'anno scorso la medaglia filz a 37 anni la medaglia filz si deve vincere prima dei 40 anni sopra i 40 anni non viene più assegnata e ha fatto un'intervista che ha rilasciato e ho trovato Marian Mirzacani io non la conosco direttamente ma lavora abbastanza vicino al mio campo fa sistemi dinamici su superfici algebriche quindi è un po' il mio campo di ricerca vicino anche al campo di ricerca di Alberto e di Marina Marchisio e ha fatto una bellissima intervista e leggendola ho detto ma guarda che bello è quello che vorrei dire io quando parlo di me come matematico è quello che vorrei dire a un possibile visitatore del Muse quindi si adatta sia a descrivere la matematica e dice questa cosa molto bella dice trovo parole appropriate per un visitatore al Muse ve le propongo dice sono una pensatrice lenta mi piace molto la visita al Muse deve essere una visita tranquilla lenta che prende un problema apparentemente insolubile e lo doma con la perseveranza osservandolo da punto di vista diversi e nuovi e quindi questo credo che sia veramente la cosa fare scienza andare a capire le cose della scienza bisogna essere dei pensatori lenti che prendere problemi che apparentemente sempre un problema di scienza sembra insolubile ma se abbiamo perseveranza riusciamo a domarlo poi dice questo il momento più bello è quello della scoperta la sensazione di essere arrivato in cima a una vetta e di godersi un panorama inviolato questo succede andando al Muse ma per la maggior parte del tempo fare matematica per me è come una lunga escursione senza un sentiero tracciato né un traguardo visibile fare matematica fare ricerca qualche volta hai la soddisfazione di avere la scoperta ma il più delle volte è una lunga escursione senza un sentiero tracciato né un traguardo visibile spesso gli studenti dice lei prendono in antipatia equazione figure geometriche senza nemmeno provare a farsi sedurre e io stessa dice all'inizio non amavo la matematica la bellezza della matematica si mostra solo a chi la insegue con la pazienza io spero che al Muse qualcosa di matematica almeno le forme geometriche si possano vedere che è veramente molto bella e poi lei dice qual è il segreto per pensare in grande e dice deve ignorare i frutti facili da cogliere non devi prendere quelli nella parte bassa dell'albero ma devi salire fino in cima e cogliere i frutti più difficili bene insomma concludo con farvi vedere questa foto di questa fantastica matematica che a 37 anni ha preso la medaglia Filz e che spero di invitare un giorno a visitare il Muse e vedere se anche lei si appassionerà grazie dell'attenzione e spero di arrivare a tutti Grazie.